Cari amici e cari amici, annuncio la mia ricandidatura alle elezioni regionali del 25 settembre nella lista di Forza Italia. La scelta nasce dal lavoro fatto in questi anni. Un lavoro che è stato all'insegna dell'ascolto, ascolto dei cittadini, delle associazioni, dei sindaci, istanze che sono state portate all'Assemblea regionale siciliana per trovare risposte. Molte sono state date, altre attendono ancora. La possibilità oggi è di continuare questo lavoro, ma questo lavoro lo si può continuare solo se avrò la vostra fiducia. Il 25 settembre, se lo ritenete, potete votarvi, potete continuare a sostenere. Possiamo continuare insieme a lavorare per la terra agrigentina, per questa nostra provincia, per ciò che non si è fatto e che deve trovare risposte. Grazie.